Il Signore del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Prendiamo. Siamo in binanzia a te, oh Spirito Santo. Siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi assistici, vieni nei nostri cuori. Vieni, insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire, compi tu stesso quanto da noi richiesti. Sì, tu solo a suggerire e a guidare le nostre decisioni, perché tu solo, tuo Dio Padre e tuo Figlio Suo, hai un nome santo e glorioso. Non permettere che sia resa da noi la giustizia. Tu che ami l'ordine e la pace, non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci letta parziale l'umana simpatia, non ci influenzino cariche e persone. Piedici stretti a te e nulla ci risponda dalla verità. Fa che li vivi nel tuo santo nome sappiamo contemplare bontà e fermezza insieme, così da fare tutto in armonia con te, nell'attesa che per il fedele compimento del dovere ci siano dati in futuro i beni eterni. Invochiamo l'intercessione dei santi, l'Italia dei santi, Santa Maria. Grazie a te e nulla ci risponda dalla verità.